Dopo la pubblicazione della bozza ministeriale che vuole ripristinare le due prove scritte per gli esami di maturità, gli studenti di Gioia Tauro hanno deciso di aderire allo sciopero studentesco nazionale dell'Unione degli Studenti. La motivazione è chiara, i maturandi risentono di due anni di didattica a distanza, alternata a brevi periodi di ritorno tra i banchi. Per loro dunque l'opzione di svolgere due prove scritte appare del tutto infattibile. I cuori di protesta hanno anche rimarcato pesantemente l'assenza di dialogo tra le istituzioni e le rappresentanze degli studenti, oltre alla mancanza di empatia con chi è stato costretto a vivere gli ultimi anni in un ambiente ritenuto poco favorevole all'apprendimento. La richiesta degli studenti è quella di un esame di maturità diversificato e confezionato su misura che tenga conto della vocazione dello studente e del suo percorso scolastico e che ponga tutti gli studenti e le studentesse in una condizione di pari trattamento.